Sì, ci troviamo a Novara con Silvia Sanino. Chi è Silvia Sanino? Sono io. Ma perché ti sto intervistando? Perché sono una modella Curvi, capo organizzatrice di eventi qua nel Novarese e indiettrice del gruppo Curvi di Orse, il progetto No Sai Zero. E cos'è il progetto No Sai Zero? Il progetto No Sai Zero è un insieme di idee, eventi, volti comunque a promuovere la bellezza femminile e soprattutto a sensibilizzare le persone sui disturbi alimentari, quale anoressia, bonimia, obesità e tutti gli affini. La manifestazione che tu tieni, perché me l'hai specificato prima, cosa vuol dire Curvi? Perché hai adottato questo termine? Allora, Curvi sono tutte quelle ragazze in questo caso che sono di conformazione fisica, diciamo, robusta e non minutine, ecco, insomma. Cioè, devo specificare una cosa, Curvi non vuol dire essere in sovrappeso e non vuol dire soffrire magari di obesità. È sbagliato, è nascondersi dietro appunto questo muro, questo orgoglio, orgoglio Curvi sbagliato, perché comunque le Curvi vere, le Curvi che si occupano anche di disturbi alimentari, mandano un messaggio di salute ed equilibrio a livello comunque psichico e fisico. E quindi Curvi è l'equilibrio di una ragazza, diciamo, un po' in carico, una donna del Mediterraneo, ecco. Sappiamo che sono due anni che fai queste manifestazioni, dopo essere uscita da un periodo nero, no? Sì. E i progetti per il futuro, cosa hai in mente per il futuro? Come ho detto già in alcune interviste, spero di sposarmi con il mio compagno Giovanni e avere due figli, ma questo credo che sia un sogno di tutte le ragazze. Poi per un futuro chissà cosa può succedere, io prendo sempre il bello delle cose e vivo appena una giornata per appunto pian piano costruirsi il cammino, ecco. Per andare a vedere quello che fai via, hai una pagina Facebook, hai un sito internet? Sì, allora, io ho la mia pagina personale che è Silvia Sandino, poi ho la mia pagina d'artista che è Silvia Aliara Sandino e la pagina del gruppo che è Curvi Girls No 6.0 con l'hashtag davanti. Quindi se ci sono delle ragazze che vogliono aggregarsi al tuo gruppo e via, lo possono fare? Assolutamente sì, mi potete scrivere anche in posta, privata, email, silviafnino1992-gmail.com Qualsiasi domanda, qualsiasi curiosità, info, io sono a completa disposizione per tutti voi. Ciao, grazie. Ciao.